ma c'è un giocatore rimasto ma c'è un giocatore rimasto da perdere la testa non piccare non ci pinta il fenomeno per un attimo ho ucciduto io se defuse non posso slashare ulta 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 eeeh io sono volpito vaffanculo ehi ragazze sta migliorando ehi ragazze sta migliorando ehi ragazze ehi ragazze ehi ragazze bravo sei bravo non si scappola bello che ci ho guardato fino a un attimo prima ragazze giocare è pronta manca un solo nemico bravo bravissimo non solo non solo la caccia inizio ottana la cesta andate qua spike a terra in a manca un solo nemico si era sopra attenti attenti se vuoi davanti a te il suo compito non è finito non mettere il suo compito non è finito siamo io e te 30 secondi rimasti 30 secondi rimasti manca un solo nemico non è la cosa sono sulle vostre tracce manca un solo nemico ultima pronta non è riuscì non è riuscì dal senso di sp apple non è riuscì non è anche uno non è riuscì non è riuscì arbor stava dentro al sito b è abbastanza basso in hp molto molto shifta la tutta tranquilla stai calmo un colpo ma 30 secondi rimane non è che l'ho fatto non c'è l'ho fatto ok c'è il giardino oh no site oili guardami ricarico